Il New York Times ha definito i campi agrivoltaici un vero e proprio paradiso per la tutela e lo sviluppo delle biodiversità. In pratica i campi fotovoltaici hanno aiutato e stanno aiutando diversi insetti impollinatori a riprendersi, a ricrescere, ad avere un habitat naturale, ideale per la loro sopravvivenza. Ora, questi sono dati. Il New York Times è probabilmente il quotidiano più autorevole al mondo. Quindi, caro amico, ti faccio questa domanda. Non pensi che questo binomio fotovoltaico-campi potrebbe essere qualcosa di eccellente anche per lo sviluppo della natura nel nostro paese? Io non sto parlando di eliminare terre coltivate dove mettere soltanto pannelli fotovoltaici. Assolutamente no. Io sono ambientalista quanto e forse più di te. Però, proprio perché amo la natura e ci tengo alla lotta all'inquinamento, penso che dobbiamo combattere la propaganda che viene fatta, viene fomentata, dalle grosse aziende che hanno interesse a venderci l'energia prodotta dalle fossili per discriminare e dipingere sempre sotto una luce negativa le rinnovabili. Quindi, come sta avvenendo nel nostro paese, unico caso probabilmente al mondo per quanto riguarda l'eolico e il fotovoltaico. Ripeto, l'ho detto già in tanti video, io non sono affatto favorevole alle multinazionali che prendono per pochi spiccioli le terre delle persone, dei nostri connazionali, per installare megawatt e megawatt grossissimi impianti solari o eolici e produrre dell'energia che non porterà dei vantaggi economici alle popolazioni locali. Al contrario, io faccio questo video per incoraggiare tutte le persone che hanno la possibilità di installare un impianto fotovoltaico, tutti gli agricoltori che hanno un'azienda agricola ad approfittare degli incentivi presenti anche nel nostro paese a trovare il giusto equilibrio tra la produzione agricola che ci deve essere e la produzione di energia pulita che può essere d'aiuto anche alle nostre aziende agricole in modo tale che autoproducendo l'energia necessaria per le loro necessità non saranno più schiavi degli aumenti e delle speculazioni delle grandi compagnie elettriche ma potranno dare un taglio ai propri costi e avere il necessario per poter mantenere più facilmente le proprie attività. Ora, ho detto tante cose in questo video, ho dimostrato come l'agrivoltaico negli Stati Uniti sta producendo ottimi risultati soprattutto dal punto di vista del benessere dell'ambiente ovviamente ci sono dei grandissimi vantaggi anche dal punto di vista economico se tu che hai un'azienda agricola invece che comprare in bolletta l'energia te l'autoproduci e ti voglio raccontare una mia personalissima esperienza dato che in ufficio ovviamente abbiamo un impianto fotovoltaico io non mi sono mai troppo interessato della tariffa che il mio gestore in questo caso Enel Energia mi stava facendo poi, dato che come amministratore ho anche la responsabilità di evitare degli sprechi un mio collaboratore mi ha fatto notare il prezzo folle che nell'energia ci stava facendo per quel poco di energia che ci veniva debitato in bolletta perché faccio questo discorso? perché molto spesso le compagnie elettriche te ne sarei accorto ma lo dico per chi come me non se ne era accorto finché qualcuno non gliel'ha fatto notare finché tu hai il prezzo in promozione probabilmente puoi strappare anche dei prezzi abbastanza convenienti ovviamente cari rispetto al fatto di prodursi l'energia gratuitamente col proprio impianto fotovoltaico ma più conveniente rispetto ad altre compagnie elettriche nel momento in cui però i mesi passano e i primi 12 mesi del prezzo in offerta sono finiti io mi sono trovato a pagare qualcosa come 47 centesimi per kilowattora 47 centesimi quando adesso il PUN nazionale è di circa 12 centesimi al kilowattora questa a mio modesto parere sono delle vere e proprie rapine legalizzate ovviamente nel mio caso non me ne accorgevo perché producendo mille energia col fotovoltaico le bollette arrivavano sempre molto 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 piccole quindi non mi sono mai curato di questa cosa però francamente farsi rapinare anche se in maniera legale penso che non faccia piacere a nessuno di noi quindi riepilogando spero di di averti aiutato a riflettere sull'importanza per la tua azienda agricola se sei un agricoltore di autoprodurre l'energia necessaria per le tue necessità questo come dimostrano i casi negli Stati Uniti porterà di averti aiutato di averti aiutato